Se non hai un vero perché, non c'è nessun... Dice, ma sono sbagliato, io non ce l'ho il vero perché. No, sei giusto. Qual è il primo punto di Ohm? Sono ok. Il metodo vuole darti un'altra chance, un'altra partenza. Nuova, subito. Non ci sono storie. Chiunque tu sia, di a te stesso che puoi farlo, di a te stesso che vai bene. Parleremo poi di tutto quello che devi ancora acquistare, di quello che ti manca, di quello che non capisci. Non c'è problema se tu vuoi partire. Non farti fermare da te, perché tu non sei quello che credi. Non farti fermare da ciò che ti hanno detto. Non sei quello che credi. Invece, gioca con te stesso. Non hai un vero perché? Perché giochiamo insieme al gioco del facciamo finta che. facciamo finta che ce l'abbiamo, un vero perché. Facciamo finta che siamo intelligenti. Facciamo finta che sappiamo amare. Facciamo finta che possiamo farlo. per un attimo, per una po', e vediamo cosa succede. Quando andiamo a analizzare il cervello, a fotografare, a filmare, il cervello di una persona che sta giocando al facciamo finta che, e si dà una possibilità di essere migliore, il cervello agisce come se fosse migliore. se andiamo a analizzare il cervello di una persona che invece è sfiduciata e nega a se stesso qualunque capacità, il suo cervello non agisce, ma lo tiene costretto in un loop cibernetico che lo riporta sempre al punto di partenza.